In questo momento siamo ad Alfero dove c'è la cascata e l'acqua che scorre, che scorre, che scende e che va giù di là, che un po' andiamo anche là. Oggi vediamo una giornata stupenda, così bella che mi dispiacerebbe di andare a casa, vabbè, partita. Oggi vediamo una giornata. 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 Oggi vediamo una giornata.